Il prossimo intervento è di Peter Echer dell'Agenzia per la protezione civile della provincia autonoma di Bolzano e credo tu lo farai insieme ad Andrea Andreoli della Libera Università di Bolzano che ci parleranno di un altro dei progetti di lungo periodo che abbiamo introdotto in questa sessione, cioè la riqualificazione del rio Mareta a dieci anni dai primi interventi. Buongiorno, sono molto contento di poter presentare il nostro progetto del rio Mareta ormai dieci anni fa realizzato e questo è il progetto più grande che abbiamo realizzato in Alto Alice con 2 milioni e otto per un tratto di due chilometri quasi dal rio Mareta. Ecco, per farvi un'idea dove ci troviamo, siamo proprio al nord d'Italia e lì nel bacino di Bibiteno entra quel rio Mareta con un imbrifero di duecento chilometri quadrati e come vedete nella slide anche influenzato da ghiacciale. E le portate, per darvi l'idea, la decennale porta il 120, la centennale la 230. Beh, la storia, più o meno lo stesso destino come tanti fiumi nell'Europa ha sofferto delle escavazioni. Qua in sinistra una ripresa degli anni 70 dove praticamente le ditte estravano materiale per la costruzione dell'A22. E in seguito negli anni 80 è stato sistemato il cambiamento dell'alveo dal intrecciato all'alveo dritto rettificato e l'interruzione del continuo longitudinale e laterale e certamente si è anche abbassato. Le conseguenze sono drammatiche, praticamente il rischio idraulico nel bacino di Bibiteno si è aumentato, con la portata trentennale abbiamo già dei grandi problemi. E certamente anche l'ecologia soffre di questi interventi, più che altro ecco l'interruzione della continuità, l'avassamento soprattutto per la falla e con questo è stato staccato, lontaneto e una perdita grandissima dell'habitat ripariale. Per fortuna ce ne sono possibilità di agire e una base ottima era questo progetto Interreg 3B River Basin Agenda, dove praticamente per l'arco alpino ci siamo riuniti per inventare un miglioramento per il maneggiamento dei aree fluviali. E questo svolto nel 2003 fino al 2006 dava la base per questo intervento che poi siamo riusciti a finanziare con i mezzi europei FESR. e certamente lì l'obiettivo era allargare, praticamente riportare, orientarsi allo stato naturale, ottimizzare praticamente l'utilizzo del demanio idrico che per fortuna è ancora rimasto e ci ha dato la possibilità di allargare perché senza terreno cosa si fa? Un bel niente. Qua invece abbiamo avuto fortuna. Bene, i lavori, innanzitutto si doveva, questo era un peccato, togliere gli alberi e le piante però per poter togliere queste briglie che poi sono state fatte anche con le seghe e con le diamanti, cioè un lavoro abbastanza intensivo, però poi fatto lo spazio e il materiale di scavo ben oltre i 100.000 metri cubi rimessi nell'alveo, che è una cosa veramente interessante nell'Alto Adice perché tutti gli dite ma siete pazzi di mettere il materiale di nuovo nell'alveo e siamo riusciti con tanti battagli di critiche. E poi la nuova sicurezza, cioè la difesa idraulica, era più che altro questo consolidamento con rampe strutturate con la forma di nido d'ape, con dei massi ciclopici senza cemento armato, certamente. E per darvi l'idea della grandezza, Philip Alder, il progettista, faceva la misura quanti grandi erano questi sassi per i pennelli che sono stati messi dentro negli argini e poi ricoperte col materiale. E questo vi dà l'idea del sviluppo, dell'evoluzione, cioè prima dei lavori, poi subito dopo un anno della realizzazione e adesso la situazione si presenta in quella situazione e il bello è che si muove, di nuovo è tornata la dinamica. I risultati, cioè l'effetto dal punto di vista ecologico, certamente il vantaggio più grande è stato il recupero della continuità longitudinale e anche il collegamento con le aree accanto. Una dinamica perché adesso certamente il trasporto solido è di nuovo attivo e può muoversi con le barre e il recupero delle aree umide e abbiamo fatto fare anche dei studi dove praticamente si può notare che con questo intervento siamo riusciti a cambiare un po' la tendenza e il recupero di 6 ettari di habitat ripariali sono per noi in Alto Adice un bel vantaggio. Ecco, l'effetto per la fauna ittica certamente ci fa tanto piacere e soprattutto adesso la marmorata può entrare di nuovo in territorio per la frega e si evidenzia anche la popolazione. Qua in blu la situazione del 2001 e in rosso la situazione nel 2012 dopo la realizzazione e si vede la popolazione ha di nuovo una forma abbastanza natural con diversi stadi di sviluppo. La pubblica realizzazione è un fattore molto importante perché questi soldi investiti nel fiume da noi si dice ma ha buttato nel fiume questi soldi, ma invece è importante dare l'idea e soprattutto l'esperienza alla popolazione che è un paesaggio importante, un paesaggio per l'uomo ma certamente innanzitutto per la natura e per questo le azioni tramite le scuole era molto importante e ci fa tanto piacere che viene notato anche tramite internet, per esempio il European Center for River Restoration l'ha messo nella sua pagina web per fare un esempio come si fa anche o come si fa river restoration e poi anche la salute come questo qua è una rivista in Alto Adice che il rio Mareta dà come esempio da Kneipp c'è un evento anche sanitario. Bene, grazie per il monitoraggio chiederei a Andrea. Buongiorno a tutti, Andrea Andreoli, Università di Bolzano, continuo un po' sulla traccia che mi ha dato Peter per raccontarvi un po' che noi come Università di Bolzano, un gruppo di studio sul dinamica dei bacini ideografici e dinamiche fluviali. Abbiamo colto un po' l'occasione di queste riqualificazioni, di questi bei lavori che fa la provincia per portare avanti e proporre dei progetti e portare avanti dei progetti che servono a noi per capire certe dinamiche fluviali, certe dinamiche di bacino e speriamo servano anche alla provincia per avere qualcuno oltre a loro che lavora in quest'ambito e fa una sorta di monitoraggio post-intervento. Qua, in questo caso specifico del rio Mareta, siamo riusciti a portare a casa tre progetti, un progetto che si è concluso nel 2016, tra il 2014 e il 2016 finanziato dalla provincia di Bolzano, un progetto chiamato River Mood che termina a dicembre di quest'anno, che studia le relazioni acqua e pianta e dopo lo vedremo meglio con progetti interni dell'Università di Bolzano e un altro progetto Farmor che è tuttora in corsa, finirà nel 2019 che è finanziato dalla provincia di Bolzano. Gli argomenti studiati brevemente in questo progetto sono nel primo il ruolo degli apparati radicali nella stabilizzazione dell'alveo sul trasporto solido e di conseguenza sulla morfologia fluviale, quindi siamo andati ad effettuare delle buche di scavo subito dopo la riqualificazione fluviale, avendo a disposizione un terreno quasi vergine perché sono state piantate pochi esemplari di piante e il grosso della vegetazione è rientrato naturalmente. Quindi abbiamo studiato come l'instaurazione della vegetazione tramite gli apparati radicali aiuti a stabilizzare in un certo senso l'alveo e come contribuisca nelle dinamiche fluviali nella formazione di barre, di isole eccetera. Il secondo progetto era il progetto che utilizzava gli isotopi dell'acqua sostanzialmente per vedere le dinamiche di disponibilità idrica praticamente andando a studiare l'acqua presente nella falda, l'acqua presente nel fiume e l'acqua presente nella vegetazione e vedere l'impronta di quest'acqua per vedere come quest'acqua viene ridistribuita. Abbiamo trovato dei risultati interessanti che poi vedremo. E infine un progetto sull'influenza dell'intervento di riqualificazione sulla diversità morfologica e di conseguenza sulla disponibilità di habitat fluviali e sulle comunità idriche con l'applicazione del modello Fabsim. Qua faccio vedere molto velocemente un po' di immagini dei lavori di campo, quello sugli apparati radicali, quello sulla estrazione di acqua vedete in profondità, in superficie e nella vegetazione e lo studio isotopico conseguente e un po' di monitoraggio anche dal punto di vista planimetrico per vedere lo studio delle unità morfologiche e della morfologia d'alveo. Tra i prodotti di questa riqualificazione e di questi progetti è anche interessante vedere come ci sono tesi di laurea, anche tesi di dottorato e esercitazioni che facciamo annualmente con gli studenti, li portiamo in questo sito e quindi questo sito è anche molto utile anche per la formazione delle persone. Velocemente i risultati, con la distribuzione radicale abbiamo visto come le radici tendono a stabilizzare gli strati superficiali, come si vede in quel grafico a destra, delle barre e delle isole. Con la ridistribuzione dell'acqua abbiamo trovato molto interessante vedere come la vegetazione che si va a instaurare in queste zone riqualificate sta utilizzando sostanzialmente l'acqua piovana e l'acqua superficiale e non tanto l'acqua di falla. Abbiamo anche comparato questi risultati con lo stesso studio effettuato su un altro sito riqualificato in provincia che vedrete domani pomeriggio, quello dell'Aurino in cui la falla è molto più bassa e c'è un problema di abbassamento molto più grave e questi risultati un po' concordano. Bisogna però sostanzialmente stare attenti e considerare in che zona ci troviamo, l'estremo nord Italia, zone abbastanza fresche e umidità presente anche nei più secchi periodi estivi. Quindi può essere che in altre zone dove magari in zone più secche la vegetazione non riesca a utilizzare quest'acqua superficiale e si trovi di conseguenza in stress idrico. Di conseguenza anche un altro studio sulla morfologia fluviale dove abbiamo notato un aumento delle unità morfologiche e degli abitati a disposizione per i pesci e infine, un po' aveva già accennato Peter, la presenza stabile dell'americaria che è una specie molto interessante a livello comunitario. Finalmente, non so anche se Peter vuole intervenire e aiutarmi a concludere, possiamo nominare come risultati di questo intervento di riqualificazione un generale allargamento dell'alveo, una promozione delle foreste ripariali naturali, una diversificazione morfologica funzionale dell'alveo, la creazione di nuovi abitati acquatici, il ripristo nella continuità fluviale, un ripascimento come ha detto Peter dei sedimenti, ma è molto anche importante attività di ricerca in cui ci siamo dentro noi come attore, funzione ricreativa, come avete visto nelle foto e come vi posso testimoniare quando vado a fare i rilievi in campo e c'è sempre presenza di popolazione, chi corre, chi va in bicicletta, chi va a fare la gita al fiume e una ricolonizzazione anche della flora e della fauna autottona. Quindi ci piace pensare che questo possa essere un esempio per il futuro sia in positivo che anche in negativo se ci fossero degli aspetti negativi che riscontriamo per futuri progetti di riqualificazione in provincia o anche fuori dalla provincia di Bolzano. Grazie, Petra e Andrea. C'è spazio per una domanda? Grazie. Puoi traduzione. Ma bisogna il microfono. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma chi ha deciso di construirlo in questi rinari? In questo rinomano? La domanda è chi ha deciso inizialmente di costruire gli sbarramenti che poi voi le briglie che voi avete rimosso, chi ha deciso di rimuoverle e chi ha pagato? La risposta può anche essere noi, noi, noi. Allora, ha deciso la provincia di creare questa sistemazione negli anni 70 certamente per far la protezione per la conca di Bipiteno ed era proprio la nostra cultura di rubare dal fiume lo spazio per l'area di coltivazione ed è una nostra cultura. Per fortuna abbiamo adesso le nuove legislative, innanzitutto la direttiva Acque che certamente ci dà un chiaro appoggio di cambiare rota. e in questo senso noi anche pagando la provincia col contributo perché il 15% dell'importo ha pagato la provincia e quindi la nostra autorità si ha costruito e poi rimosso. Grazie Peter, credo che ci sarà ampio spazio e tempo in questa giornata per fare ulteriori domande a Peter e Andrea se ne avete e vi ringrazio intanto. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.